non solo risparmio.it è una guida pratica online su come risparmiare in casa sul fai da te in natura su un mangiar sano e altro ancora l'accesso è semplicissimo basta digitare nella barra degli indirizzi www.non solorisparmio.it e il gioco è fatto una pagina dalla semplicissima fruizione accoglie il consumatore anche meno esperto nell'uso del computer come vediamo dalla barra dei menu cliccando col tasto sinistro del mouse si possono scegliere gli argomenti di interesse e poi scorrendo la pagina leggere tutti gli articoli in essa pubblicati stesso risultato selezionando la didascalia sotto le icone o le icone stesse altro settore di interesse è quello evidenziato in questo punto i suggerimenti il sito ciclicamente suggerisce metodi ed espedienti per superare quelle fastidiose problematiche che mai vorremmo ci capitassero e se vi siete persi una notizia un'informazione un suggerimento con la finestra ricerca troverete tutto ciò che vi serve volete risparmiare in casa non solorisparmio.it volete vivere bene non solorisparmio.it volete diventare bravi nel fai da te non solorisparmio.it volete sapere tutto su salute e benessere non solorisparmio.it avete bisogno di utilities che vi aiutino nel vostro lavoro non solorisparmio.it insomma non sapete come risolvere un problema la soluzione c'è non solorisparmio.it la guida pratica che ti mancava